Ciao ragazzi, sto partendo da Roma e quindi saluto tutti i romeni, almeno così mi ha detto di dire Di Stefano, vado verso Anzio dove troverò un sacco di anziani e magari poi chiamo qualche amico a Lecco così che possa salutare tutti i leccesi. Allora voi innanzitutto salutatemi Maglio Di Stefano e i compagni del 5 Stelle, soprattutto perché lui non la butta così sul ridere, perché lui è sottosegretario agli esteri e rappresenta l'Italia, incredibile.